Eeeh che bel tempo che c'è qua, c'è proprio bellissimo, vedo, vedo, vedo il sole, il, il, il signor, uno zubat volante tutto felicio lì, molto contento, l'erba che va a fuoco, eeeh, eeeh, sì, fantastico, tuoni che cadono senza un puro sesso, Oh sì, questo è Gigi, ok, grazie a tutti per avermi, salve a tutti e prego, ciao, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Pokécraft, non ancora, porco cavolo, mi ha mancato, mi scusi, mi scusi, io sono qua a prendere il sole, eeeh, allora, comunque hai raggiunto il livello 13, chimchar, e dovrei andarlo a fare curare da un veterinario psicologo, Perché sai, ognuno ha i suoi problemi, come disse il buon vecchio saggio, eeeh, cavolo se mi, ma, quando Exit, allora, Exit, semplicemente, è scemo di longitudine afrodisiaca, perché ha la lana, no, tipo, sapete perché, la lana è una cosa che serve in teoria per, però, Exit non ce l'ha la lana, questo, Ah, perché è una Pokéball in in teoria, perché l'ho trovata, sì, l'ho veramente trovata per terra, allora, e poi sono signori, poi non so neanche come si usano i cheat, quindi sarebbe un buon motivo, se qualcuno mi spiegasse come funziona, eeeh, buonasera, potremmo dormire, tipo, dormiamo! Eeeh, prima nottata, eeeh, fatto niente, appunto, eeeh, andiamo, e lagga tutto, mi, mi sembra più che giù, ma è piove ancora, ma che bello il tempo, mamma mia, spaventoso, E' uscito dal sole, manco a predire il futuro ecclesiastico, perché, oh, rapidash, eeeh, 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 mi scusi, sta un poco lontano, eeeh, un PJ carino, ma io voglio Zubat, ma io voglio Zubat, Zubat, mi scusi, Zubat, Ah, mannaggia, io devo inseguire i cosi, poi perdo tempo, è sparito e despaunato, a me sembra giusto, e exit, cerco un pokemon, esso despauna, esso, perché esso? Eh, egli, volevo dire, mi, non si può neanche scherzare con i tempi, a verbioli, Allora, innanzitutto, c'era un pesce un giorno, veramente, quadrato, allora, eeeh, è salito a livello 13 il mio chimchar, puchè è salito a livello 13, è salito a livello 13, puchè, è un pesce, non è vero, è un chimchar, aaaah, exit, ride, simpatico exit, Un mini pad, carino, cocoloso, e catturabile, eeeh, tipo, eeeh, da dietro, ok, tagliate tutto, real, 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 mini pad, no, vabbè, adesso andiamo a vedere se ci sono dei cosi, perché, se no mi prendo Psyduck, che è un pokemon veramente bello, secondo i miei gusti, eh, Cioè, veramente forte, più che altro, eh, sì, exit, si impappina con i verbi, dettagli, signori, eeeh, 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 e Mamma mia Exit fa Fa il figo Stavo dicendo due anni fa Chimcer è cresciuto Fa che ci sia Figurati se ci sono squirtle E ride Exit ride Ride Da matti proprio Exit portentoso Allora Comunque Ho sfidato un Gastly livello 15 Ho vinto contro Chimcer e sono salito Fino a esto livello Parlo anche spagnolo Un Dewott Dei B-Watch Cosa ci fa un Marip Nella zona va bene Non ci facciamo domande Come ti chiami tu Allen 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 Ho fatto la battutissima Exit Quilava Carino Quilava Troppo forte per me però Sono ancora Mannaggia a te Quilava Scappa Chimcer Scappa Chimcer Scappa Chimcer Scappa Grazie Che fortuna Che fortuna Cioè tre turni Usare mosse di tipo Stato Veramente Questa si che fortuna Potremmo sfidare Un Plazo Ah vabbè Sfidiamo un Plazo Perché si Ma noi vogliamo farlo evolvere Tutti Tipo Un Plazo Che casualità Taunt ha imparato Che è una mossa dark Tipo Mi taglio le vene Ah no quella è Mossa emo Dark Exit si confonde Con gli emo E i dark Veramente Qualcuno è stato paralizzato Fammi indovinare Allora io sono un po' come di tipo fuoco Plazo è un po' come di tipo elettro E secondo me Si è elettrificato lui Ah dagli mazzete Si mazzete si dice dammi parti No mazzete è una bulletana Sarà livello 14 Come livello 14 E' vero che si evolve livello 14 No subito Subito Incredibile Sta volando Sta volando Ok Exit Fallo scemo E infatti Allora Se abbiamo un Chimchar Come abbiamo un chimchar Abbiamo un inferno Mi scusi Si è sbagliato un poco Un pigiotto un po' troppo cresciutello Andiamo a vedere di qua Ovviamente noi ci perderemo Ma mi sembra più che giusto Perché noi Siamo potenti No no Che siamo potenti Noi Lo sapete tutti Ma lo sapete tutti Mi sembra anche inutile dirlo Che cosa siamo Che cosa siamo Esseri umani Ditemelo Che cavolo di pokemon è quello Ah sono cosi Sono picciu 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 Grandissimo Cuore d'argento Picciu Picciu Exit basta Veramente Basta Carinissimo Mamma mia Mi si intenerisce il cuore Ma mi dispiace Shanks Non vi posso catturare Però vi posso ammazzare Si si Vi posso ammazzare tutti Per piacere Faccivi ammazzare Io vi voglio bene Però Ok grazie Arrivederci Allora Adesso noi Andiamo a vedere Se Eh Vaca Te Sì Lichitang E te Eh Quanto è grosso Mamma mia Mi fa paura Eh Anzitutto Dovremmo prendere Quelle pietre Voglia Ma Voglia e pietre Io non mi interesserebbero Grazie Qualcuno Qua sotto in un commento Mi potrebbe scrivere Come si fa A Ottenerla A pietre lunare Se c'è bisogno Di Eh Andare Direttamente A cercare Qualcosina Di carino Oppure c'è Da Crearla Proprio Craftarla Così Oh Siamo tornati a casa Perché ho come l'impressione Che vorrei catturare Questo pj Con tutto L'animo Possibile Ho paura Adesso Però Ammazzarlo Faccio un scratch E non l'ammazzo Vero Grandissimo Se adesso lo catturo Exit Si mette A cantare Lancia la pokeball E nell'erba Finisce Exit È fortunoso Allora È fortunoso È un nuovo verbo Vediamo Se è veramente Fortunoso Exit Exit Sei fortunosissimo Exit Fortunosissimo No Questa serie La chiamerò La culaggine L'Ukul Dell'Ukul Che ha presente Oh cacchio Eh 10 livelli In più forte Vado a curare I pokemon Mi scusi Non despauni Per piacere Non ho soldi Per pagarla Per dirgli Di non despaunare Però Non Non despauni La prego Signore Eh Che Che c'è crisi C'è crisi E quanti minuti siamo Mamma mia 9 minuti E ho solo disposizione Altri pochi minuti Miltank Non mi dica Che lei È despaunato Eh Miltank Non me lo dica Non me lo dica Mai Odio profondo Miltank Odio profondo Ricordatelo L'ho sempre Odiata Mi fa schifo Proprio Eh Livello 26 Che draga Proprio C'è Veramente Fa schifo Mi fa schifo Dewat Livello 20 Grosso come Cocoso Indescrivibile Quanto sei grosso Dovremmo utilizzare Il nostro uccello Exit Fa battute Utilizzando La parola Uccello Perché uso mosse Di tipo Non efficace L'ho shottato Livello 16 Eh Mamma mia Fortissimo La 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 Exit Canta canzoni Ancora sconosciuta al mondo Eh 40 44 Ma ditelo che Complotto Siete portentosi voi 13 starli Però potrei rischiare Raticate Raticate Mi sfida Adesso io lo faccio Super efficace È proprio Super efficace Adesso mi Ammazza tutti Ma Exit Sei portentosissimo Exit Sei più forte Di tutto il mondo Proprio Mi fai schifo Fai schifo Rattato tu cavolo Raticate Che poi mi sbaglio Anche a Pronunciare nomi Poi c'è tipo Mille haters Che dicono Exit Hai sbagliato Era un Raticate Quello Eh Valle Vagione Non si sbaglia qua Capito Siamo a un livello Professionale Coglio Ok basta E andiamo a curarci C'era una volta Un pesce rosso Dovevo cantare Una canzone Io Eh Mannaggia Come faccio Mo La canto Non è più portentoso Exit Mannaggia No no Sono portentoso Lo stesso È che Ho avuto un attimo Di squilibrio Piedale Tipo Giusto Si può dire No Squilibrio Piedale Ma tu sei piccolo Veramente Eh quasi quasi Vi faccio una bella sfida Col mio La mia pecorina Eh si si No vi faccio la sfida Col mio uccello Vai Perché Exit Tutto per questo Perché Perché Exit Perché Exit Sciottalo Ma troppo forte Mamma mia Mi fa piangere Tanto la prudenza Di Un Exit Così Prudenzoso Potenzioso Si dice No come si dice Prodigioso No non mi ricordo più Potente Sono potente Portentoso Exit Non si ricorda queste cose Aiuto Mamma mia Exit Malato 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 Con Lattoso Exit Exit Fa rime Exit Fa rime Scherza Però Mi dispiace dirvi Che non si mangia la minestra Exit E' simpaticissimo Fai schifo Exit Fai schifo Ecco Come Si blocca la crescita Veramente E' bloccato la sua infanzia E non è cresciuto più E' uno shock E' uno shock Che gli è bloccato la crescita Mamma mia Poverino 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 Poverello Uno zorro Tanto Tanto bello Mi fa schifo Un poco Pocadello E io dico Ciao a tutti Che bello No no Che bello E' brutto Com'è brutto Eh si è brutto Comunque Prima o poi Dovrò andare in caverna E ho paura Che sia il prossimo episodio O un pezzo di lana Siamo ricchi Exit Deve tornare a casa In teoria Vero Ah 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 Exit E' simpatico Eh quante ghicocchie Ma ditelo eh Va bene Grazie Non dovevate Tipo Mi vedrete con 80 Tipo Pokeball La prossima volta No scherzo Perché non ho niente Non ho materiali Faccio schifo Insomma Esatto Eh Exit E' simpatico Gostri Castri 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 E' Swinob Più E' VACCADÈ C'è E' VACCACA Tu impai lo swine Diventi un Nel Che altro E' le fa Che elefante Ma che elefanti Gli elefanti Danno l'elemosina Una pokeball Così posso chiudere la puntata Brick Brick Brack Bene Adesso che abbiamo Brick Brack And Tracker Tracker Possiamo Chiudere questo episodio Trovando 1080 Ghicocchi A postissimo Exit A post A post Stai calmo Sì ma veramente No no Stai calmo Exit E si stanno ancora Mazzà Eh quante casse di sfida Sono in tre Ma stanno facendo Una battaglia tripla Questi Va bene Vagli ad arrangiare Tu con i pesci Perché Plop Perché è dai tempi Antichi Che i pesci Fanno plop Grazie a tutti Per avermi visto Io sono Exit M77 Che ha perso La via di casa Ciao a tutti Eh 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 Se vuoi sostenere Anche tu Un Exit Scrivi Che c'è un tag Con scritto Porta in tosagine Così lo renderai Una persona migliore O forse no